Ciao a tutti, nel video di oggi, Chiara e Fedez tornano finalmente a Milano dai loro bambini, dove gli aspetta un po' di divertimento. Vi lascio al video, buona visione! Anche quello le piace, tira su i piedi, eh? Mamma mia amore, ma questo biscottino è una delizia! Ma l'hai fatto tu? E come l'hai fatto, scusa amore? Con il mio nonno. Con il tuo nonno? E come si fanno i biscottini? Noi non lo sappiamo, ce lo scrivi. Com'è che l'hai fatto? Con le mani! Grazie per aver visto il video. Se ti è piaciuto lascia un like ed iscriviti al canale. Ci vediamo domani! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!